Allora, sono qui in SOLIDWORKS e se voglio vedere il centro di massa di questo pezzo, vado come si dice a valutare, ok, parè, nel senso se voglio sapere la proprietà di massa, ma se voglio vederlo invece vado a scrivere qui centro di massa e schiaccio qua. A questo punto lui mi fa vedere dov'è il mio centro di massa, però adesso io voglio cambiarlo, non mi interessa perché sto facendo una simulazione col motion e voglio fare in modo che questa cada prima e dunque mi serve il centro di massa più spostato in giù. Allora, non ho voglia di modificare il disegno, vado ad agire su proprietà di massa creando un centro di massa differente da quello corretto, ok, ma mi serve solo per la simulazione. Dunque vado sulla proprietà di massa, ok, e sovrascrivo proprietà di massa, dunque io qua ho sovrascrivo massa, centro di massa, momento di inerza, vado sul centro di massa, ok, e mi serve solo la Y perché voglio semplicemente portarlo giù, ok. La X mi va bene lì, la Z mi va bene lì, la Y, allora proviamo con 0, faccio ok e questo qui si è spostato in giù, allora ad occhio vado qui in proprietà di massa e vado a mettere meno 10 in modo che più o meno proverò adesso, faccio ok, e dunque, ok, chiudo, e dunque io, vedete, probabilmente questo mino mi dice che l'ho spostato io, comunque è qua, è nella posizione più o meno che io volevo, ok, dunque, proprio perché voglio provare a vedere se mi cambia un po' la simulazione, perché voglio che questo qui, questo qui, questo nottolino, si sposti, isca dalla ruota dentata, allora devo provare a fare questa cosa qui. Al di là che potrei mettere anche materiale, che così forse era anche meglio mettere più materiale, perché quel materiale lì, siccome non c'è materiale, magari mi bastava invece che fare questo centro di massa, però proviamo tutte e due, adesso quasi quasi dopo metterò un materiale anche, che magari pesa di più, un bel materiale che pesa in modo che che vada, si stacchi proprio dalla ruota dentata. Vabbè, spero di essere stato utile, dunque, quando posso, nella simulazione, voglio fare delle prove, voglio, non ho tempo di modificare la forma per arrivare a un centro di massa, ma voglio semplicemente più o meno fare veloce, posso dunque modificare il mio centro di massa, e si fa così come ho dimostrato prima. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Grazie.